Si aggirano fra gli scaffali, scelgono la merce, la mettono in borsa, insomma fanno la spesa. C'è solo un particolare, non pagheranno. Sono due professionisti del furto in supermercato, i Bonny & Clyde del taccheggio, come li hanno soprannominati alla squadra mobile foggiana. Fabio Vittorio Valente, 36 anni, e Ilaria Cappucci, 21enne, sono stati presi subito dopo l'ultimo colpo. Avevano rubato detersivi e cosmetici per 200 euro dal negozio Downia Carta di via Menichella a Foggia. Gli agenti, avvertiti di quanto stava accadendo, sono intervenuti e li hanno arrestati all'uscita. Nella loro macchina, un Apollo, c'era altra refurtiva per un valore di 400 euro. L'avevano rubata qualche minuto prima dal supermercato Sigma, in via Martiri di via Fani. E poi c'erano vestiti e profumi per 2000 euro. Secondo gli agenti, sono stati asportati in altri supermercati di Foggia. Grazie ai filmati degli impianti di sicurezza è stato possibile riconoscere i due in azione almeno altre quattro volte. Prima, quei filmati erano sì disponibili, ma non si riconoscevano gli autori dei furti perché erano incensurati e quindi la polizia non era in possesso di foto segnaletiche. Dopo l'arresto, invece, tutto è stato più facile. I due staccavano le etichette di taccheggio quando c'erano con una pinza. In un caso, un furto nella profumeria Tutto per te in via Fania, i tre avrebbero agito insieme ad una complice, Raffaella Pompa, denunziata dagli agenti. Secondo gli inquirenti, i tre potrebbero aver collaborato anche in altre imprese, commesse ai danni dei negozi di Sansevero, Lucera e Ortanova. È probabile che la refurtiva venisse rivenduta da alcuni ambulanti e finisse sulle bancarelle di mercati rionali.